E' la storia di questo ragazzo che vive nelle miniere, che lavora nella miniere alla ricerca per noi. Il film l'ho trovato molto lento, ne abbiamo parlato in sala, però effettivamente è l'impatto, perché credo che proprio la lentezza serva proprio a farci capire, darci l'idea di come si vive in quelle situazioni. Quindi dal momento che la loro vita è quella, quindi loro non hanno altro, ecco perché è importante che anche il ritmo del film sia lento. Quindi l'ho trovato molto fedele alla realtà.